La sesta sagra dell'uva festeggiata con l'inaugurazione della mostra ai mercati di Traiano e con il pittoresco corteo di carri allegorici e vendemmiali a piazza di Siena. La sesta sagra dell'uva festeggiata con l'inaugurazione della mostra ai mercati di Traiano e con il pittoreo di carri. La sesta sagra dell'uva festeggiata con il pittoreo di carri.